salve a tutti ragazzi benvenuti in questa nuovissima puntata di robocraft questa sera sono in compagnia sempre con will66 e adesso c'è anche l'aspomine e penso che molti di voi conoscete però non andate mai sul suo canale youtube perché altrimenti non guardate i miei video quindi ragazzi allora modificate un po il mio healer ci ho messo 3 smg tier 7 e quasi quasi io vorrei mettere altri smg tier 6 ma non ne ho metto questi tier 5 tanto così non aumentiamo di livello però guardarsi che qualcosina qualche danno lo fanno vai 2 non messi 2 e 2 4 no siamo dei tier 7 con 4 allora li togliamo li togliamo non è cosa non è cosa non sa da fare questa cosa non sa da fare nemmeno uno va bene quindi andiamo così in game in battaglia e vediamo un po pure il carro di laspo che si vanta tanto ma alla fine mi vanta mi vanta troppo guarda ora ti faccio vedere che volgarita no non ho fatto un pene cioè salta da fuori che non è un pene the over medic quindi è un medico quindi tu sarai il mio medico e quando ho relo medico tu correrai da me sempre se no morirò prima di te uno ha fatto un aereo però ci ha messo l'elica dell'elicottero avanti in pratica vedo che si con le ali si ce l'ho proprio di fronte si chiama the cheese gratter il formaggio gradito abbiamo uno con i con un cettino tier 8 di squadra si in teoria dovrebbe vuoi lottare in teoria guarda qui che carro che ho fatto guarda guarda la mia violenza di carlo lo schifo ma che cos'è e lo sterco volante con un oh mio dio oddio che cosa è combinato zebo 89 è approvato tatatatatatatata potenza di fuoco guarda per essere cura si deve abbassare su tutti i miei cioè non prendetela come volgarità alla lettera volgare sei volgare devi shiftarti sotto di me Termin nerd Ecco che sbatto contro la parete Perché non ci sono mai gli aerei Quando li voglio Infatti tu sei un cecchino Dovresti distruggerti Come distruggono sempre me A parte che l'ultimo giornalamento Sono miliardi di milioni di cecchini No L'hai mancato Io il bello è che non la posso sparare lì in alto Però se si abbassa di più Oh Jesus No non ci arriva Non ci arriva Ce la puoi fare No non ci arriva Andiamo avanti Medico C'è un nemico Oh mio dio Guardate la kill Non la so E' vero che ho usato dei cubi che fanno schifo Perché l'ho fatto a volo a volo Diciamo proprio Mentre volavo Ho fatto questo robot Però unshotarmi così Non mi sembra neanche giusto Nei confronti miei E nei confronti dei miei iscritti Cioè Queste sono cose che si deve far notare Nelle Robocraft Cioè la gente Li querelo Ti segnalerà il video per violenza Sì io li querelo Terrorismo Attento l'aspo che ti stanno plasmando E c'è anche uno qui sotto che ti sta SMG Spareggiando Beh basta che di sugo ci più Così guadagno le big money Io ho fatto già due tiro Non posso morire così A parte che se una bossa non mi colpisce Nooo No nemmeno tu colpisci lui Oh Jesus Sei morto Che stronzo Cioè loro Loro della loro scuola Sono tutti vivi Di noi sono rimasti due Cioè Non era ancora bilanciato Completamente Il gioco Eh ma scusa Gli altri sono più bravi E poi stai sulla neve Tu hai gli sci Avevi messo gli scarponi Per la neve No Eh per cui stai perso Le scaccole Scusa Le scaccole Gli scarponi Pure io ad esempio Quando guido la macchina Mi metto sempre gli scarponi Perché scalo le marce Sì Perché Devi proteggerti I piedini Molto Io ho un cane Talmente intelligente Che quando gli butto il bastone Lui mi risponde a coppe Cioè Cosa fai Ti mostra il pisellino Che c'entra Quando giochi a carte Tu gli mostri Vabbè Lasciamo stare Iniziamo un'altra battaglia Bene amici Finito quest'attimo di pausa Questa chiacchierata Tra Tra colleghi Questa promozione Il terrorismo Ragazzi Esatto Signalate lì Gabri Che tipo Mi ha insegnato a mia madre Che se scrivi qualcosa Su l'isis O degli anonimi O su facebook Ti captano Contro Contro 3 T10 Grande ragazzi Li dobbiamo distruggere Distruggere Cioè Allora Se un tier 6 Mi one shot Figuriamoci Se adesso Mi arriva un colpo Del tier 10 Per rendertemi conto In che condizioni Sto io Nelle pessime Io ho fatto due kill Io ho fatto due kill Prima Io tipo Sto vedendo Ho messo il silenzio Il simulare Però Mi sta esplodendo Il comodino Anche se ho messo il silenzio Secondo me Solo se si avvicina Il tier 10 Io esplodo Come mai Come mai che cosa No perché Quando stava Mettendolo Il tempo Vedo te C'è chi non guadagna niente Questo qui Questo qui Che ho fatto L'elicottero rosso Mi piace Questo è un tier Quello è del Del Roboshop Modificato un po' Ah Io l'ho fatto pure io Io l'ho fatto un Elicottero Con tre Eliche Della T10 E con I cubi Della TX1 E 10 plasma Della T10 Ragazzi ci stanno sparando Oddio Oddio Arriva Oh mio Dio Me l'ho colpito Cioè guarda Non mi hanno colpito E mi hanno Distrutto a metà Non mi hanno colpito E mi hanno distrutto A metà Prenditi conto Io in che condizioni Sto giocando Per stare insieme a voi Con un tier 6 Ti sei messo che i blocchi verdi Ho tolto un casino Vabbè i blocchi verdi Sono per decorazione Alla fine Non è che Vai che gli sparo Qualche colpo No No Dai che è il 23% Dai che è il 23% E io lo voglio Che roba E roba Che roba Che roba Che roba L'hanno killato Ce n'è un altro Oddio Sto uscendo con l'aereo Sì Sto uscendo con l'aereo Si sposti Un altro Ce n'è un altro Oh Gisus Mi hanno colpito Non ho più il medico Oddio Sta qui Cosa dice Sta succedendo Ce n'è uno qui Mamma mia Vai 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 che ci facciamo qualche danno Vai che non ci sta guardando Io faccio Io faccio daereo Oddio Sei girato Sei girato Sei girato Mi ha visto Non mi metto Oh mio dio S'è arrivato Un contenuto di plasma Stacca Hai capito Non ho fatto niente Perché a me Sto facendo proprio la battaglia Di chi vuole che si nasconde Togli di medico Attenzione Che ti distrugge Questo coso Oddio Oddio Non è che con i plasma Ah L'ha fatto Mi ha ucciso Mi ha ucciso Mi ha ucciso Gente che va Gente che viene sempre Sul canale TS Vai cecchino Vai cecchino Vai Will Vai Will Aspetta che non vado Vai Bella Distrutto E' rimasto l'ultimo E' rimasto l'ultimo Will Dai Ah due Ancora Uno che vola Infatti l'ho visto E' passato Adesso sale Viene verso di voi Will Will Il cecchino alto Quello con le zampe No quello si nasconde Quello con le zampe Che sta cadendo giù Quello è il nemico Colpito Ti ha preso in pieno Dietro la roccia Cos'è Ha spaccato la roccia Mi ha rato brutalmente Mi offendo Vai ragazzi Che ce la fate Va bene ragazzi Noi intanto usciamo Perché purtroppo Non possiamo rimanere Siamo dei nabbi Votate se siamo nabbi o no Eppure ci sono passato dal tier 6 Io non ero così Comunque Ora ti pensi L'orgia della gente Che ci scrive nei commenti Siete nabbi Allora io quasi 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 L'ho detto già due volte Quasi quasi E lo ripeto Quasi 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 Se gli metterebbe Se gli metterebbi L'italiano correggiuto Delle ali Divento tier 7 Divento tier 7 E questa non è cosa buona E giusta Hai ragione Però è figo Perché comunque Però ci devo togliere Comunque gli electroplate Ci voglio dire gli over Se metto le ali Scusami no Ci siamo fin qui no Togliendo le Gli over Mettendo di nuovo gli electroplate Ma in modo Giusto e corretto Sono tier 6 Però adesso devo vedere Se vanno bene le ali Montate in questo modo Quindi Giusto un secondo Che mi provo Questo mio nuovo Mini aereo Fatto proprio così Al momento Vai Togliamo gli over E mettiamo le ali Così Molto spiccio Spiccio Ragazzi Però è lento Vola ma è lento Lentissimo Troppo lento Ma Ma pure Ma pure Ma pure Lì Ma che Comunque No Non vado Allora Quelle ali però Se le sposto più avanti Dovebbe andare meglio No Sì Dovebbe andare meglio Spostando le ali Un po' più avanti Poi a questo punto Gli over Le devo mettere sotto E non più sopra Perché effettivamente Poi mi colpisce Mi colpiranno da sotto Allora Ali Movimento Poco male Le metto Qui Metto qui E poi aspettate Che cosa devo fare più Mi sono dimenticato Ah ho detto che è lento Proviamo a mettere qualche Traster più potente Ma No Aumentiamo di livello dopo Quindi Non va bene Potrò mettere Falsi thraster T6 No Aumentiamo di livello Come metto qualche Thaster in più Aumento di Di livello Vabbè Questi qua Provo a metterli Quanto più avanti È possibile Metto qui Facciamo l'ultimo test Ah Il timone Però non ho messo Cosa importante Ecco perché L'ha sbilanciato Mi ho messo male Gli user Adesso Scemo io Cose che capitano Più di una volta al giorno Sì A chi è che non è capitato Che se ci sveglia la mattina Non mette Il posto giusto La regola Per iniziare Il nerding Su robot Allora Allora Devo mettere un timone Però Sarebbe più figo Mettere due timoni Due così E ce la facciamo A mettere due timoni Così Mi piace pure È diventato È figo Diciamo come robot Ti ascolto Allora Sta il fatto che Abbiamo il problema Che Questo qui Non mi piace Vuoi perdere la bellezza Se modifichiamo qui Non mettere Per appesantire Un po' più avanti Se ci fanno Di mettere qualcosa Per appesantire avanti Non mettere Tipo nel futuro Zerk Che Diventano Di un milione Di iscritti FabiJ Fa invidia Proprio Eh Vabbè Ce ne vuole Per arrivare Per fare la carriera Di FabiJ FabiJ Come lo chiamano I suoi Fan Ok È sempre squilibrato Equilibrio Questo aereo Non ce l'ha In penna Perché Perché è pesante dietro No è pesante avanti No se è in penna Significa che è pesante dietro Oppure è troppo leggero avanti Oppure è troppo leggero avanti È uguale no? Basta farsi Basta farsi troppe segmentali Diamoci all'azione Sì adesso entriamo subito in game Faccio quest'ultima modifica E vediamo Se così cambia qualcosa Stavo facendo un nuovo carro Però Non sono riuscito in t Ok Ok Come va Come va La spacca Come spacca La va Non so che ho detto Però È lentissimo Come aereo Però Sale verso l'alto Hai capito In penna da solo Non puoi mai guidare Un aereo che va così Devi bilanciarlo bene Quindi Questi uber Che sono più pesanti Però aspetta Ok Siamo in lipiazzo qua Così diamo peso avanti Pam Siamo sempre tier 6 Così deve andare meglio Ok Ma di gran lunga Ti ascolti Non so perché ho sempre così pochi soldi Dovrei soppare No Allora va un po' che tiro meglio Però non è stabile infatti Vedi Giro da solo Se ne bastano Sti 8 E aspetti Non tanto Ne bastano Ultima prova Dai Ultima prova Come va Va E poi Ci facciamo Un'altra battaglia Giusto Per far vedere Agli iscritti Queste piccole modifiche Fatte a volo Come funzionano Ok abbiamo spostato Le ali davanti Un po' più indietro E abbiamo bilanciato Il tutto Da qui come sale Adesso si Si adesso va Stabile E lento Questo è poco Ma è sicuro E lento Però è stabile Adesso possiamo giocare Siamo proprio Un facile bersaglio Un bersaglio facilissimo Dai ragazzi Quindi Entriamo in game Arrivo E testiamo questo Nostro aereo Fatto a volo Cioè è proprio Fatto a volo Cioè proprio Che serve per volare Tanto ho sbagliato A costruire Il mio Scusa Ok Siamo di nuovo Sulla neve No Cioè purtroppo No Quello è il nome Vecchio Non lo Non lo Non lo Legge Unicottero Cioè la televisione Fanno vedere Uno che Vola Che Vola Che Camina in un Prato Fiorito Di Salsicce Fiorito Di Salsicce Il paradiso Il paradiso Della gente È strano Ok Il nostro aereo Sali di Quota Guarda qua Che aereo Che ho fatto Guarda Bello Ah Sì A tarula Io lo guardo Usando il Cecchino Hai Cinque Hai messo Cinque Mi hanno già visualizzato Bene Infatti Un cecchino Vai Dai Dai Allora Io volo Basso Tra le montagne Tanto Se mi colpiscono Mi One shot Non ti fai una problemà Mi devo nascondere fra le montagne Nascontarò Io mi nascontarò Fra le montagne Il volanto Basso Vado a conquistarlo La basso Madonna Genio proprio Questo Vuole essere il curato Ma non sta vicino Wow Mandato uno Al 63% Atterraggio di fortuna Adesso Oh mi ha visto Mi ha distrutto anche un'ala E io lo sparo Oh vieni a curare me Vai 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 che lo colpisco Vai che lo colpisco C'è qui Mi si ritrola la montagna Cerchiamo di raggiungerlo Oh Ci sono i nemici Scappiamo No ma ne ha distrutto tutti gli over Sono bloccato Addio Mi hanno ucciso Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Ebbene Me la sono cercata Me la sono cercata Con peggio pronti Stiamo quasi vincendo Devo rimettere gli over dietro No Oh madonna Sei morto Ma ormai Attenta il cecchino Lotta tra cecchini Ecco Will Contro un altro cecchino Questo che ha coperto il robot Che stronzo No No non ce la faccio Ha coperto il Come si chiama Il tank Chi Un player nemico Che stronzo Vabbè E c'è anche un medico Vai vai che cecchino è distratto Vai 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 Why Will Bam Mamma 63% Bene Fai che bello forte quel robot No il cecchino viene da me Madonna però Due contro uno Stanno Ma si teni in armi Madonna Attento attento Sta arrivando Oh T'ha fatto Sì però C'è il medico C'è il Liler Liler Vai dal Liler Vai dal Liler No C'è quello che sta caricando No No Ciao Stiamo registrando Una partita Vai 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 La possiamo usare Dai recupera Dai recupera Dai RECUPERA RECUPERA Ottimo No attento C'è che No Sì dai No 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 St'ho fatto St'ho fatto Liler Dai non sono distruggendo Liler No No Sì Morto Niente da fare Erano troppi Il destino era segnato Il destino era segnato Così la intitolerò questa puntata Il destino era segnato Bene ragazzi Credo che per questo episodio sia tutto Io vi ringrazio per la visione Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale E la pagina facebook Anche io Anche io Da Zerco Da Laspo E da Will E tutto Ci vediamo a un prossimo video E non passate sul canale di Laspo Perché altrimenti Non vedete il mio E nemmeno in quelli nel canale di Will No nemmeno il mio Perché non ho nemmeno il video Esatto Quindi Ci vediamo al prossimo episodio Ciao ragazzi Ciao